Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel mio secondo video. Come vedete siamo sempre nella mia solita cucina, la mia umila scenografia. Prima di iniziare questo mega unboxing da 250 euro su Protis, ci tengo a ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato nel mio primo video. Se siete stati in tantissimi che avete commentato e mi avete visualizzato. Non mi aspetta tutto questo affetto, siete stati davvero davvero troppo gentili. Grazie mille. Iniziamo appunto questo unboxing. Ho scelto per la maggior parte prodotti nuovi per mostrarveli, anche prodotti nuovi prodotti suggerati per mostrarvi come vengono consegnati, come vengono imballati, anche un po' i valori condizionati. Ma adesso iniziamo dai prodotti non normali, secchi. Allora, come primo prodotto faccio questi panini pro creci con pochi arboidati. Questo è il pane che più preferisco, utilizzo sempre questo pane. Lo congelo anche, lo riscaldo leggermente, 3-4 minuti in affiditice ad aria ed è ottimo, davvero ottimo. Ottimo a prodotti emozionali, ha solo 194 valori per 100 grammi, quindi davvero ottimo perché ha dietro. Poi non può mancare l'inconfondibile di Choco Butter. Lo sapete già, la consiglio sempre. Questa è ovviamente una Nutella Proteica senza zucchero. Inoltre in omaggio anche con il mio prodotto di sconto giusto ai 10, con una somma di 65 euro, giusto. Poi abbiamo i nuovi burri. Questo è il burro di arachidi al cocco. Dopo magari lo assaggiamo. Pochi ingredienti, solo olio di cocco e arachidi. Altro nuovo burro sarebbe il burro di arachidi con noci pecan. Non lo c'è solo a 101 calorie per 100 per un pacchetto e a 3 grammi di grassi. Carboidrati, 4-5 grammi, quindi sono ottimo, un attimo snack se volete un po' variare. Poi abbiamo la nuova pasta di legumi, questa è ricca di proteine e poi povera di carboidrati. Qui ha la quinoa, che ottimo in cucina, come una normale quinoa. Questi sono i nuovi bagel frateici a te di broccia. Guardate la morbidezza, cioè non rischiano cose di così morbide. Se non la avete provate e ancora assaggiatevi, l'unico consiglio che vi do è non metterli in frigo che è tenato in dolissio, oppure non lasciateli aperti. Però mettete l'ambiente, sono ottimi. Questa è una cosa nuovissima. di poco torna al cioccolato. Non li abbiamo ancora provati, però mi dicono che sono buoni. Proveremo. Ah, questo è il bagel invece, sempre, i valori di zoni sono molto simili a quello classico, solo questo è un goccio di cioccolato. Credetemi, è come il pan goccioli. Guardate che molto bellezza. Queste invece sono le farine d'avena per pancake salati. Non so, questa pancake pare che bisogna aggiungere solo acqua e se volete che sia il panchino. Non lo so, li proverò, li recensierò anche su Instagram questi. Un po' vedere. Questa è la nuova. Questa è la nuova farina d'avena a gusto frattuccino. Inizialmente era un po' dubbioso se prenderla o no, ma vi dico che è fenomenale questa farina. Prendita inizialmente il sapore, può sembrare di un po' chimico, all'odore, non sapore. Però una volta cotto, ho fatto un pancake con una avena e con un cucchiaio di yogurt con la ricetta di messa in evidenza su Instagram. È davvero buonissima, provatela. Questo è un classico. Per i miei follow-up, questo lo sa nella pubblicità da sempre, la farina d'avena al limone. Questa è la top, è top, al primo posto per me. Ci faccio il porridge e sto aggiungendo solo acqua. È buonissima, sembra una crema pasticcera. Magari alcuni può dare, alcuni può sembrare un po' dolce. Basta mischiare metà farina neutra e metà questa. Ma credetemi che è ottima. Il gusto del lemon bio, la torta al limone. Delle volte trovate a scrivere anche il meringue al limone. Questa è un asciugamano, un asciugamano da palestra, l'asciugamore. Wow. È bellissimo, guardate. Questa è in palestra Spatkan, una volta già domani. È bellissimo. Quest'altra farina per panchetta, altri top corn. Ma eccolo. Questo è il burro di anacardi. Questo è il mio preferito. Mi sa che assaggerò questo per primo. Ovviamente ingredienti 100% anacardi. Proveremo. Queste sono le barrette di cioccolato protege. Queste non sono normali barrette protege, ma vedete, è proprio cioccolato. Sono ottime. Per me le migliori barrette di cioccolato che esistano. Adesso ne avremo finita una anche davanti a voi. Cioè, guardate. Buonissimo. Questo è un altro prodotto che vi consiglio tantissimo. Questi avete presente i Kit Kat? Sono identici. Sono proprio questi. Cioè, sono questi solo in versione senza zucchero e protege. Provateli. Questo è top. Io ho fatto una bella scorta, come vedete. Questo altro prodotto super top. Avete presente gli Smarties? Identici. Sono solo senza zuccheri. Hanno messo lo scotch, un attimo. Credetemi. Sono identici. I miei amici, chiunque li hanno provati, mia cucina ne va pazza. La preferisce questi ai normali, proprio come saura, per il fatto che i valori nutrizionali. Appunto i valori nutrizionali hanno metà delle calorie di quelli normali. Quindi... Cioè, prendete quelli e vedete questi. Sono buonissimi. Credetemi, provateli. Questo è un prodotto nuovo. Ancora non l'ho provato. Non so di come è di sapore. Ma penso che sia una normale farina. È il porridge instantaneo. Praticamente bisogna mischiare questa farina con acqua o latte e farlo cuocere sul pentolino a fiamma bassa. Penso sia... Cioè, penso sia buono. È come una farina torta al limone. Però... Penso dopo domani. Questa altra pasta. Questa di lenticchie rosse. E questa è la super novità che molti mi state chiedendo su Instagram. Questo è lo smartwatch. Allora, questo è davvero ottimo. A parte il fatto che il prezzo è bassissimo. E poi ha più funzioni del mio Apple Watch. Praticamente questo è subaccio. Monitora il sonno. L'Apple Watch non lo fa. Ehm... Ehm... Aspettate. C'è la musica. Ehm... C'è colori. Ehm... Per il nuoto. Ballo. Calorie di qualsiasi attività fisica. Ehm... Lo recensirò anche. Lo utilizzerò anche per andare a correre. E vi farò le recensioni su Instagram. Se chiedetemi su Instagram. Per vedere le recensioni di questo orologio. Però mi hanno detto chi l'ha provato. E il stesso dall'azienda. Che è ottimo. Ehm... Questo è un prodotto nuovo. Ho voluto provare. Penso che siano buoni. Perché anche questo ho visto le recensioni. Sono i... Gli... 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 Gli hamburger, sì. Di... Di soia. E di patate americane. Beh... Proveremo. Il pezzo era ottimo. Quindi voglio approfittare. Quest'altra farina. Quello anche per te. Va bene. Allora... Altra barretta. Questo è il burro di... Ah... Acqua. Questo è il burro di mandorle. Non lo so. Mi piace la mandorle. Quindi sicuramente mi piace al 100% mandorle. Questo tavolo è pieno. Non lo vedete, ma è pieno. Ah. Questo viene subito al secondo posto come fare la Come Choco Butter. La prima è questa. Che appunto è in omaggio con il Cosa di Sconto Giuse 10 fino al 15 luglio. Ma penso che ci sarà sempre perché è il mio prodotto preferito. Questa viene subito dopo. È il cioccato bianco. Credetemi. Il Galak è identico. Ha ottimi allure funzionali. Senza zucchero e proteico. Trovatelo. Questo è finito. Adesso... Passiamo ai prodotti sul gelato. Lo faccio tutto in diretta. Come vedete... Faccio massimo il pacco. E... Ti dico... Per esempio questa è stata congelata oggi che è il 30 giugno. Ma si mantiene congelata fino al 2 luglio. Quindi... Sarebbe... Sare tranquilli che non si perde niente. Cioè... Ma rimane congelato come... Guardiamo. Allora... Un tappo. Questo è il piaccio freddo. Mamma mia... Il congelato dopo. Ecco qua. Questo è un altro pacchetto. Guardate come è imballato bene. Wow. Cioè... Guardate che... Come è ordinato. Guardate. Mamma mia. Allora... Questo è il pollo con broccoli. 25 grammi di carbo. 340 calorie totali. 36 grammi di proteine. E 8,9 grammi di grassi. Quindi questo... Quando andate di fretta... Io pure sono andato sempre di fretta. Perché tra pagina, palestra e tutto... Ho pochissimo tempo. Lo mettete in... Mi pare pure in microonde. E due minuti ed è pronto. Abbiamo anche... Wow. Questi sono buonissimi. Cioè... Lo sapete che amo i dolci. Ci sono i miei amori dolci. Questi sono i french toast. Classici. Allora... 5 grammi di grassi. 7 grammi di zuccheri. 9... 9 grammi di proteine. E 0 grammi di sale. Gli calorie per 100 grammi sono 128. Troppo. Quindi... Fatti. French toast. Nel mondo sempre. Questo invece... Mi sto concedendo le mani. Questo invece è il petto di pollo con... Verdure. 34 grammi di proteine. 10 grammi di grassi. E 316 calorie. Buonissimo. Allora... Questo invece è sempre il petto di pollo con... Altri tipi di verdure. Non so. Comunque sono sempre le verdure. I valori sono simili. 8 grammi di grassi. 350 calorie. E quasi 40 grammi di proteine. Bene. Potremmo. Un attimo. Questo è il mio prodotto. Come vedete sotto c'è altro giaccio. Per far mantenere le credito. Lo potremmo mangiare mai. Adesso proviamo qualche burro. Teniamo un attimo il cucciaino. Proviamo quello di anacardie. Io adoro gli anacardie. 616-617 calorie. 49 grammi di grassi. Questo è solo anacardie. Quindi. Medio di questo. Sto avrendo. C'è il tappo questo qui. Questa è la consistenza. Adesso vi faccio vedere. Qua è cremoso. Guardate. Vi assaggio. Ha buonissimo ormai. Altro pochettino di assaggio. Raga. Provatelo. Guardate che consistenza. Una sporca di col cucchiaino. Se non lo mangia di nuovo. Guardate. Vorrei provare anche quello con il cocco. Non ho preso quella al cioccolato. Perché se mi seguite su Instagram. Ce l'ho provato. E già ho detto che è buonissimo. Se non sta a metà. Manca poco. Questo invece sempre un po' più liquido. Ah. Perché sì. C'è olio di cocco. Quindi non è solo. Non sono solo rachidi. Dallo stesso. Adesso la consistenza è bella. Proviamo. Buonissimo. Io poi adoro il cocco. Vabbè. Qualche cosa non mi piace a me. Mi piace tutto. Però. Però. È buonissimo. Però ti sei sui burri. Non sbaglia mai. Ebbene. Ci troviamo. Assaggiamo. Assaggiamo anche questo. Non ci pena. Allora. Allora. la consistenza. Ma questa è più velutata. Guardate. Buono anche questo. Ah. Questo è anche con caramello. Cioè non mi sono dimenticato. Buono. Franci. Guardate la consistenza. Prima che fa da qua sopra. Ok. Visto che ci sono. Ma non voglio assaggiare altro. Perché altrimenti. Già ho fatto merenda. Ho mangiato l'ovo. Oggi ho mangiato quasi mezzo kg di l'ovo. Vi faccio vedere anche la consistenza di questa crema bianca. Guardate. Credetemi che è come il Galak questa crema. Buonissimo. Questo è solito al secondo posto. Questi sono i prodotti che diciamo io preferisco. Come sapete al primo posto sempre per la farina d'arena al limone. La consiglio sempre. Prendetela. Se non volete venire presa quella da un filo e due. Prendete quella da mezzo chilo. Che è più o meno la stessa voce. È di meno. Però la meno assaggiate. Per i gustini ricchi mi sembra che non ci siano. Provate. Che non me ne pentirete. Lascio combattere. Va bene. L'ho già detto tre volte. Questo è tutto. Vi ringrazio anche di aver visto questo secondo video. In realtà mi sento già meglio. Già credo che ho costruito un rapporto con voi. Non so come dire. Sono sempre un po' emozionato. Però è già meglio rispettare il primo video. Vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un like. Con questo come funziona l'Italia YouTube. Se non mi hai seguito su Instagram fatelo. Giuseppe Hilti. E iscrivetevi anche al canale. Ah appunto. Vi ricordo il codice. Il codice sconto giuse 10. Ricevete uno sconto il 10% su tutta la spesa. In omaggio potete ricevere la Choco Butter. C'è la farina d'arina da 500 grammi. Potete uscire quella di muoio. Quella frappuccina per provarla. C'è un asciugamano per la palestra. Non mi pare come quell'ho presa io prima. Poi ci sono anche le barrette. Ci sono anche queste qua. Ci sono anche Kid Cutting in omaggio. E mi pare anche i cookies. Questa volta non li ho presi. Mi pare anche qualche altro prodotto che adesso non ricordo. Comunque utilizzate il codice sconto giuse 10. Vi aspetto al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Arrivederci.